Oltre 89.000 agenti di polizia mobilitati, forze dell'ordine in allerta in tutto il paese, il governo francese dispiega mezzi eccezionali e si prepara a fare fronte al quarto giorno di manifestazione dei gilet gialli, previsto per domani. Si temono infatti nuove e gravi violenze e il primo ministro Eduard Philippe ha invitato i dimostranti a non andare a Parigi domani per non cadere nella trappola dei teppisti. Fonti dell'Eliseo hanno diffuso il timore di un tentativo di colpo di stato in atto e i servizi segreti hanno messo in stato di massima allerta i vertici del paese, rivelando l'esistenza di appelli ad uccidere e ad usare armi da fuoco contro parlamentari, governo e forze dell'ordine. A confermare il pericolo è stato lo stesso primo ministro parlando di minacce di morte ricevute da dirigenti dello Stato e dai gilet gialli disponibili a trattare con il governo. Nonostante dunque il dietro fronte di Macron che ha rinunciato all'aumento dell'ecotassa per il 2019, la rabbia gialla non si placa, la violenza di Laga e l'allerta non riguarda soltanto Parigi. Rispetto allo scorso fine settimana si passerà dai 65.000 agli 89.000 poliziotti schierati in tutta la Francia. È soprattutto la discesa in piazza degli studenti a preoccupare le autorità che rispondono con fermezza. Diffuse tramite i social le immagini di 153 studenti fermati dalla polizia dopo scontri e violenze, in ginocchio e con le mani dietro la testa, stanno alimentando nuove polemiche. La protesta proprio per il coinvolgimento degli studenti si allarga con manifestazioni avvenute e annunciate nelle principali città francesi, ma i timori maggiori sono per quel che accadrà domani a Parigi. La prefettura della capitale ha chiesto ai commercianti di chiudere i negozi. Il campionato di calcio potrebbe nel fine settimana subire cancellazioni precauzionali di alcune partite ed anche la torre Eiffel per l'intera giornata di domani resterà chiusa.